Che differenza c'è fra la grappa e il distillato di uva? La grappa è il distillato della vinaccia, quindi la buccia dell'uva, quello che rimane dell'uva dopo che è stata pressata per fare il vino. Mentre il distillato di uva è ottenuto distillando l'uva intera che viene pigiata, fatta fermentare, alla fine della fermentazione non viene separato un vino ma viene messo in elambico l'intero complesso di mosto e buccia insieme. Il distillato di uva pertanto appartiene a pieno titolo al mondo delle acquaviti di frutta, essendo l'uva un frutto. La grappa ha un'aroma più deciso, intenso, schietto delle volte e anche un po' nervoso. Mentre la coita di uva è più fruttata, è più fresca, è più primaverile. Primaverile Profuma di fiori Buon assaggio a tutti!